è quasi vuota anche questa è quella di quattro quindi va bene dice che porta sfiga solitamente sia e ve lo dicono un po tutti però lei l'hai recuperata da dio sul sasso della 5 è stata spettacolo bene dai vediamo se sfatiamo il mito se non lo sfatiamo giuro cancello il video poi c'è dietro lui che grida quindi io per verso qui non lo faccio più ma neanche ma sto scherzando ma neanche se avevo il boccetto di grappa che c'è lì riesco su brava neanche se avevo il boccetto di grappa che c'è lì riesco di guidare così cioè ragazzi con tutta l'esperienza che posso avere ma ragazzi brava grazie grazie